Mr. Andrea, come sei? Bene, grazie, buongiorno. Un piacere di essere in Dubai. È un show molto buono, credo. Cosa puoi dire di questo show? Sì, la prima impressione del show è che è una stessa fantastica ed è ancora un altro tempo. Si muovono un po' dalla locazione precedente ma credo che questo sarà molto interessante e successivo. Perché hai questa area con tutte le tante di esibizione che è molto interessante. E davanti, il pontone con tutti i mega yachts e la nuova modella che sono in display dove la gente può piacere in un modo facile. Quindi, credo, sarà un'esperienza molto interessante per i piacere, per i potenti e per i potenti, ma anche per le persone che vogliono piacere un show di marina di leisure come questo. Grazie mille, Andrea. C'è Andrea. Radio C'è Zone Grazie a tutti